Una bottiglia d'olio usato è il regalo che il sindaco di Sapri, Giuseppe Delmedico, ha ricevuto da un suo concittadino, che in più è anche un noto ambientalista, il coordinatore di Fareverde Cilento, Paolo Abbate. Un singolare gesto di protesta spiegato all'interno di una missiva, nella quale Abbate si dice deluso per la politica attuata dall'amministrazione nel campo del riciclo degli oli esausti e per le promesse in campagna elettorale poi non mantenute. La maggior parte dei cittadini di Sapri, scrive l'ambientalista nella lettera, versa l'olio nel lavandino con danni all'ambiente immaginabili. Le consegno questa bottiglia perché non mi sento, come mi hanno consigliato al Comune, di portarla al meccanico di fiducia né di inserirla nella raccolta differenziata porta a porta, né tantomeno di seguire l'esempio di questi cittadini sapresi che delinquono coscientemente. L'olio finirebbe in discarica, ovvero nell'ambiente. Abbate critica l'operato dell'amministrazione del medico, il cui obiettivo più volte annunciato era quello dei rifiuti zero e dunque anche del recupero degli oli usati, ma mai nessun recipiente adatto alla raccolta ha distribuito tra i cittadini nonostante diverse sollecitazioni in questi due anni. L'iniziativa di riciclo dell'olio usato, conclude il coordinatore di Fareverde, era prevista nel programma elettorale di Sapri Democratica grazie al quale lei è stato votato, anche da me, ed eletto. Evidentemente era solo uno dei tanti annunci che i politici fanno in tempo di elezioni. Il primo cittadino del medico, ricevuta la lettera, ha fatto sapere anche la sua risposta raccogliamo gli oli esausti su richiesta, ha detto, abbiamo inoltre già fatto due manifestazioni di interesse per individuare la ditta che effettui la raccolta porta a porta, ma sono andate deserte. A breve, con alcune modifiche, la bandiremo per la terza volta, sperando di venire incontro alle aziende. Del medico ha infatti spiegato che utilizzare i contenitori di prossimità per la raccolta degli oli, come fanno altri comuni, fino ad ora era stato ritenuto inadatto per una città come Sapri, di qui la scelta di operare con il porta a porta, un servizio però più oneroso e meno conveniente per le ditte. Ora, con il nuovo bando o in case estreme, rivalutando anche i contenitori di prossimità, l'impegno dell'amministrazione viene ribadito in questo campo.